Una collaborazione vincente tra amministrazione di Francavilla al Mare, associazione Circus e scuola di danza Mille Figure di Torre Vecchia Teatina. Ha dato vita a uno spettacolo di danza meraviglioso e coinvolgente, con ballerine piccole e grandi e coreografie curate dalle maestre ballerine Daniela Carosella ed Erika Morelli, che lavorano nella palestra scuola di danza Mille Figure, diretta da più di 40 anni dalla signora Gabriella Perinelli. Lo spettacolo dal titolo Come vorrei ridisegnare il mondo ha intervallato i vari quadri di danza con intermezzi che hanno trattato temi delicati come la violenza sulle donne, la guerra, l'omofobia, lo sfruttamento. La presentatrice della serata, Monica Campoli, ha guidato con grinta ed entusiasmo lo spettacolo a cui si è aggiunta la sfilata organizzativa di un atelier di Francavilla al Mare. La vittima di violenza è scrittrice Tiziana Di Ruscio, il cantante Alex Di Luca con la sua canzone Clessidre e le poetesse Sandra De Felice e Giulia Madonna. La piazza di Sant'Alfonso è stata gremita di persone che sono rimaste fino alla fine, affascinate dai passi di danza delle bravissime ballerine. C'è stato un videomessaggio sorpresa del coreografo di fama internazionale Franco Miseria, che ha coreografato anche per Lorella Cuccarini e non solo, che ha voluto complimentarsi con le ballerine. Un evento che ha entusiasmato ed emozionato.